e non ci sbattere questo è quello di masce rosso no non penso cioè ma io con loro posso combattere tre maschi e di questa cosa dammi ma scusa si un porcello non la voglio girati logo ci cazzerò ci cazzerò ci cazzerò con la bellissima con la bellissima con la bellissima con la bellissima e lui salva ciao raga ma cosa avete ma perchè non l'avete capito sono omine sessuale omine sessuale gay gay dai stiamo qui al castello della gita a me non si veda che ci siamo stati stia scena valermi musico scena quattordici uno un carabinine il carabinine è di voi guarda ti piace il bulldog il bulldog non aspetta non aspetta non aspetta non aspetta è qui non non Grazie a tutti.